ciao a tutti allora abbiamo visto abbiamo disinnescato i bossoli e ora bisogna pulirli quindi abbiamo messi nella sabbietta per gatti economici 1 euro 90 10 chili e adesso lo facciamo andare sul buratto di mia costruzione lo facciamo andare per 30 40 minuti dopodiché facciamo secondo passaggio di lavaggio ok quindi allora questo è il buratto che ho costruito semplicissimo e adesso lo andiamo ad azionare e facciamo pulire i bossoli per una mezz'ora anche 40 minuti allora abbiamo provveduto al lavaggio dei bossoli disinnescati e adesso vi faccio vedere il risultato dopo il secondo passaggio quindi anche dopo il la lavatura vedete la sede dell'innesco abbastanza pulita anche l'interno quindi direi che ci siamo ne abbiamo fatti un po adesso li metto un pochino nel forno farle asciugare però c'è qualche minuscolo residuo solo qualcuno però in generale sono abbastanza puliti e quindi adesso li facciamo asciugare e poi partiremo con la ricarica ciao a tutti